Ma sicuramente la squadra sta attraversando un buon periodo di forma, spero duri il più a lungo possibile. Oggi ci tenevamo perché sapevamo qualche risultato delle altre squadre, per cui a noi interessava solo vincere. Ci siamo riusciti e devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita. Volevo fare i complimenti veramente a tutti, sia quelli che hanno giocato, quelli che erano in panchina e quelli che vanno in tribuna. Perché credo che hanno capito, hanno preso un po' la consapevolezza dei propri mezzi, capiscono che possiamo fare tanto da qua alla fine e noi ce la auguriamo.